Salve a tutti buon giovedì e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti eccoci di nuovo con l'appuntamento mensile per quanto riguarda il prossimo cedolino delle pensioni in questo video parliamo nel dettaglio del cedolino di marzo 2024 che è in arrivo tra circa 10 giorni ovvero intorno al 20 febbraio vediamo insieme tutti i dettagli e come consultarlo nel video che segue prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale vi invito inoltre a lasciare un mi piace nel video per supportarci grazie il cedolino delle pensioni di marzo 2024 è possibile consultarlo come sempre all'interno dei fascicoli previdenziali nell'area personale sul sito dell'inps accessibile tramite lo speed come accennato intorno al 20 al 21 di questo mese di febbraio avremo accesso al cedolino delle pensioni di marzo tale cedolino sarà particolarmente interessante in quanto vedremo il ritorno dell'addizionale comunale in acconto applicata annualmente in nove rate da marzo a novembre questa è una novità sicuramente negativa ed è probabile che l'importo sia aumentato rispetto all'anno scorso come avvenuto per altre trattenute proprio a partire dal mese di gennaio 2024 oltre a questa trattenuta troveremo l'addizionale comunale in saldo l'addizionale regionale e l'irpef parlando di quest'ultima questo cedolino di marzo segnerà l'ultima volta in cui sarà calcolata sui vecchi scaglioni dell'anno precedente da aprile come discusso in un video precedente verranno applicati nuovi scaglioni irpef del 2024 nel cedolino troveremo anche eventuali trattenute insieme agli importi lordi e netti del pagamento una nota interessante riguarda l'importo netto poiché da questo mese molti pensionati vedranno concludersi con guagli irpef applicati da inps noti tagli che abbiamo riscontrato nelle mensilità di febbraio e gennaio attenzione però per coloro con i redditi di pensioni fino a 18 mila euro un conguaglio a debito superiore a 100 euro l'inps ha rateizzato il debito fino a novembre quindi si avranno piccole trattenute per quasi tutto il 2024 tuttavia questo riguarderà solo pochi pensionati che si avranno piccoli